Sono la parte più illusoria. Come si chiama la vita che viviamo adesso? Commento. La vita che percepiamo con i sensi fisici e crediamo sia l'unica esistente e chiamate dai maestri del cerchio Firenze 77 fotogrammi fisici che competono all'incarnato ma che sono la parte più illusoria della vera vita.